che volete che vi dica è facile sentirsi dei vincenti se si guida un'auto come questa e si indossa un abito come questo e si ascoltano i consigli giusti tutto dipende da come ti poni io lo so sorridi e il mondo ti sorriderà sta solo a te far sì che oggi sia un giorno speciale costruisci le tue opportunità voi sì che avete sempre la frase giusta signor venturini e se naturalmente si fa il lavoro giusto un lavoro utile che aiuta la gente a risolvere i loro problemi a realizzare i loro sogni a proteggere il loro futuro un lavoro come il mio insomma sono un eroe oh no 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 niente del genere anche se in fondo non lo siamo un po tutti eroi buongiorno mi chiamo martino bonelli sono qui per aiutarla a risolvere i suoi piccoli problemi quotidiani ecco sono orgoglioso di mostrarle questo prodigio della scienza dio mio si sarà accorto che siamo nel 2018 beh forse ora mi dirà che non è un semplice aspirapolvere capisco il suo scetticismo ma questo non è un semplice aspirapolvere questo è un fantastico aspirapolvere con cui potrete risolvere tutti i vostri problemi di polvere superflua ti ringrazio ma ne ho già un paio di cui uno si muove da solo visto così può sembrare che lo stia guidando il gatto ma vi assicuro che non ho alcun bisogno di un aspirapolvere non si preoccupi signora posso aiutarla in tanti altri modi a realizzare i vostri sogni per esempio sottoscrivendo uno dei nostri prestiti a tasso agevolato avrete denaro a sufficienza per realizzare ogni vostro desiderio ne abbiamo già sottoscritto uno grazie e ora il nostro unico desiderio è riuscire a pagarlo aspettate ho ancora tante offerte pensate al futuro sottoscrivete una pollizia di assicurazione per il bambino o per il gatto che stia sbagliando approccio